ciao a tutti e benvenuti sul mio canale mdf travel oggi vi porterò la scoperta delle cinque città del centro italia che secondo me sono assolutamente da visitare se anche voi siete appassionati di viaggi e avete voglia di scoprire posti nuovi allora questo video fa il caso vostro quindi iniziamo con la mia personale top 5 numero 1 firenze partiamo subito al top dalla città d'arte per eccellenza firenze una città situata nel cuore della toscana qui potrete ammirare la bellezza del duomo il ponte vecchio la galleria degli uffizi e la basilica di santa croce dove sono sepolti personaggi illustri come michelangelo e galileo galilei la cucina toscana è famosa in tutto il mondo per la sua semplicità e genuinità non perdete l'occasione di assaggiare la ribollita la bistecca la fiorentina e il vino chianti la città di firenze offre numerose attrazioni turistiche tra cui la piazza della signoria e il giardino di popoli potete anche fare un'escursione alle colline toscane per godere di una vista spettacolare sulla città e sulla campagna toscana questo conclude il nostro tour della città di firenze numero 2 roma continuiamo il nostro viaggio alla scoperta delle cinque città del centro italia da visitare con la capitale roma città eterna e patrimonio dell'umanità roma offre innumerevoli attrazioni come il colosseo il pantheon la fontana di trevi e il vaticano roma offre una vasta gamma di siti storici e culturali tra cui il colosseo il pantheon la cappella sistina potete anche visitare il campi d'olio e il foro romano per scoprire la sua antica storia e cultura concediti anche una serata al teatro dell'opera la cucina di roma è influenzata dalla cucina laziale e offre una vasta gamma di piatti deliziosi non perdete l'occasione di assaggiare pasta carbonara la pizza bianca e la porchetta la città di roma offre altresì numerose attrazioni turistiche tra cui la piazza navuona e il vaticano potete anche fare un'escursione al colle del Gian Nicolò per godere di una vista spettacolare sulla città eterna numero 3 siena proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta della città del centro italia con siena città del palio qui potrete ammirare la bellezza della piazza del campo il duomo e il palazzo pubblico la cucina senese è influenzata dalla cucina toscana e offre una vasta gamma di piatti deliziosi non perdete l'occasione di assaggiare la ribollita la papa al pomodoro e il vino chianti oltre che gli immancabili cantucci biscotti tipici della zona la città di siena offre numerose attrazioni turistiche tra cui la torre del mangia e il palazzo salimbeni potete anche fare un'escursione alle colline toscane per godere di una vista spettacolare sulla città e sulla campagna toscana con i suoi viali di cipressi numero 4 perugia la prossima città che ti consiglio di visitare è perugia la città del cioccolato qui potrai visitare il centro storico la rocca paolina e il palazzo dei priori perugia offre una vasta gamma di siti storici e culturali tra cui la rocca paolina a fontana maggiore e la cattedrale di san lorenzo potete anche visitare il museo archeologico nazionale dell'umbria per scoprire la sua antica storia e cultura la cucina di perugia è caratterizzata da piatti rustici e deliziosi come la porchetta la pasta al tartufo e il cioccolato non dimenticate di assaggiare appunto il cioccolato perugino famoso in tutto il mondo per la sua qualità la città di perugia offre numerose attrazioni turistiche tra cui la galleria nazionale dell'umbria e il tempio di sant'angelo potete anche fare un'escursione al lago trasimeno per godere di una vista spettacolare sulla campagna ombra numero 5 pescara l'ultima città che vi consiglio di visitare è pescara città di mare qui potrete godere delle bellezze naturali della costa adriatica visitare il museo delle genti d'abruzzo e passeggiare lungo la passeggiata del lungomare pescara offre una vasta gamma di siti storici e culturali tra cui il museo casa natale di gabriele d'annunzio e la cattedrale di san cetteo potete anche visitare il castello aragonese e il ponte del mare per scoprire la sua ricca storia e cultura la cucina di pescara è influenzata dalla cucina abruzzese e offre una vasta gamma di piatti deliziosi non perdete l'occasione di assaggiare gli arrosticini la pasta alla chitarra e la pizza fritta non dimenticate anche di assaggiare il brodetto di pesce e il vino di montepulciano d'abruzzo la città di pescara offre numerose attrazioni turistiche tra cui il lungomare e il giardino botanico potete anche fare un'escursione nel parco nazionale della maiella per godere di una vista spettacolare sulla città e sulla costa abruzzese ho appena elencato le cinque città del centro italia che secondo me sono assolutamente da visitare spero che questo video sia stato utile che vi abbia invogliato a partire per una nuova avventura se avete altre città del centro italia da consigliare lasciate un commento qui sotto e non dimenticate di iscrivervi al mio canale per altri video simili grazie e alla prossima